Lo sportello del cittadino con frequenza bisettimanale, nonché la trasmissione Polifemo L'Occhio di Abate ogni venerdì, dà spazio allo sportello Universo Donna, una iniziativa dell'associazione Stella Maris di Taranto. Siamo con Gianna Cavallo, responsabile del settore attività sociali e pari opportunità di questa associazione. Vediamo come è strutturato, organizzato lo sportello Universo Donna. Allora, lo sportello Universo Donna, tanto per iniziare deve ringraziare la disponibilità di Luigi Abate che ci dà questo spazio, per essere immediati a entrare nelle case di tutti attraverso la televisione. Poi faremo tutta una serie di campagne pubblicitarie per informare la cittadinanza con anche dei volantinaggi e con tutti i riferimenti. Lo sportello fisicamente si trova in Via di Palma numero 10. Naturalmente ha un telefono fisso, sarà messo a disposizione, è messo già a disposizione un numero di cellulare. Basta semplicemente fare una chiamata e immediatamente la donna sarà richiamata da una nostra operatrice. Lo sportello è fisicamente a Taranto e in Via di Palma, ma con tutte le collaboratrici noi siamo disponibili a raggiungere le donne nelle loro località, perché noi abbiamo intenzione di essere operative su tutto il territorio provinciale. Spesso la donna è in difficoltà, non ha i soldi neanche per acquistare il biglietto del pulma, non ha la disponibilità di spostarsi dal suo paese o dalla casa sua per raggiungere fisicamente lo sportello. In questo noi saremo pronte ad andare incontro a qualsiasi situazione. Più lo sportello ha un blog, ha una casella postale, ha una mail, quindi le donne in qualsiasi modo potranno raggiungerci.